Pesaro 2024, capitale della cultura coinvolge tutta la provincia e con il progetto Cosa Cedop vivrà un anno straordinario alla scoperta di se stessa e del gusto attraverso i 100 bari osterie dei 50 comuni che parteciperanno al progetto 50 per 50 capitali al quadrato. Cosa Cedop è in collaborazione con Food Brand Marche, l'associazione produttori dell'agroalimentare Marche, nata per valorizzare e promuovere in maniera integrata l'enogastronomia, il turismo e la cultura del territorio in Italia e all'estero. Siamo molto contenti di questo accordo con Food Brand Marche perché questo luogo vivrà durante gli eventi, sarà per noi un salotto d'accoglienza e accoglieremo le tante persone che frequenteranno gli eventi attraverso i cibi migliori della nostra terra e i vini migliori della nostra terra. Occasione imperdibile che permetterà a cittadini e turisti di scoprire le bellezze della provincia di Pesaro Urbino, Cosa Cedop nasce grazie alla rete di 100 locali con baristi e osti che si rendono disponibili a farsi ambasciatori d'eccellenza. I bar e le osterie, soprattutto mano a mano che ci si addentra anche nelle aree interne, sono sempre più i riferimenti, a volte 7-0-7, delle persone, dei viaggiatori ma anche di chi ci abita o anche dei cittadini che devono scoprire al meglio la nostra provincia che è uno degli obiettivi della Capitale 24 e abbiamo detto perché non chiedere ai bar o le osterie di essere i primi ambasciatori di quello che accade innanzitutto a partire dalla settimana in cui il proprio comune sarà capitale, dal periodo in cui la propria zona sarà protagonista e in generale sui principali eventi si verranno a tenere durante l'anno della Capitale. Facendo questo, dare delle informazioni appunto su quello che accade attraverso una formazione, attraverso una sezione del sito dedicata, ma anche attraverso l'opportunità di offrire qualcosa di più e anche di identitario e che racconti la qualità della nostra cultura attraverso i prodotti dalle DOP, le altre eccellenze e altri marchi della nostra regione. Cosa c'è dopo, oltre a essere un percorso di conoscenza, rappresenta uno dei migliori esperimenti culturali messi in campo da Pesaro 2024, diretti a sostenere un territorio più ampio, guardando al suo sviluppo futuro e alla crescita di tutta la comunità. Protagoniste dei punti informativi saranno le eccellenze agroalimentari della provincia di Pesaro Urbino, tra cui la casciotta d'Urbino, il formaggio di Fossa di Sogliano, il prosciutto di Carpegna DOP e l'olio di Cartoceto, tra le eccellenze regionali, le olive alla scolana e i grandi vini del territorio. È certamente una grande opportunità per far conoscere le certificazioni, i consorzi di tutela e far vedere che cosa c'è stato di filiere agroalimentari che hanno caratterizzato i nostri prodotti, la nostra produzione agroalimentare. Quindi siamo qua per collegare al Pesaro 2024 anche un grande prodotto di eccellenza di cui abbiamo il dovere di narrarne le qualità e fare in modo che sia sempre più conosciuto al pubblico e questa vetrina è molto importante per rilanciare prodotti come questo.